favorire la nascita di nuove aziende, attività professionali grazie ad una rete di sportelli in grado di accompagnare gli aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi in ogni fase della creazione d'impresa. Con questo obiettivo la Giunta regionale ha stanziato 7 milioni e mezzo di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo per il triennio 2016-2018 per attivare sul territorio piemontese i percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo. A realizzarli saranno soggetti terzi che dovranno iscriversi attraverso un bando aperto dal 30 giugno al 12 agosto a un apposito elenco regionale. I soggetti ammessi, imprese, consorzi, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali potranno partecipare alle procedure di evidenza pubblica per la creazione degli sportelli banditi in autunno dalla città metropolitana di Torino e dalla Direzione e Coesione Sociale dell'Argione Piemonte per le altre province. Le attività di sostegno alla creazione di imprese e al lavoro autonomo saranno precedute da incontri di accompagnamento svolti da personale della Regione Piemonte e della città metropolitana. Fra il 2008 e il 2015, grazie ai fondi della precedente programmazione europea, quando i servizi erano gestiti dalle singole province con la regia della Regione, le attività di accompagnamento hanno permesso la nascita di 2494 imprese e 3200 posti di lavoro diretto. Perfetto.